Carriera a due! Quanto dura di solito una stagione di Formula 1? Un anno. Un anno? Più o meno, da settembre a? Settembre. Facciamo stagione completa. Invita amico. No, io non voglio invitare la gente, io voglio giocare a split screen. No, è una lobby. Vabbè, aspetta, proviamo, sì. Ma è una lobby, dice. Cioè, avete lo schermo condiviso in una... Ma chi è che fa schermo condiviso, dai? Noi! Fa musica triste, perché giustamente tu non capisci un cazzo, ti senti solo, perso. Credevo che la mia vita fosse un susseguirsi di fallimenti. Sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta. Proviamo la Pirelli Hot Lap, velocità media, velocità media, drift, velocità media... No, metti autocross, autocross. Autocross. Ma perché devi sempre? Stavo leggendo tra le altre cose. Ma stai a schermo condiviso. Ah, ma siamo in due dello stesso controller. Però io freno, io accelero e freno e tu... e tu giri. Vediamo se in due... Io non credo, compà, non credo. Oh, Ale! Eh, però, sei scarso, eh. Oh, però smetti di prendere i coni, eh. Tu devi frenare con più efficacia. Bella macchina, però. Molto bella. Ma credo che non si rompa, Mimmi. Tu pensa che per un valificarcio fa 1,18. Quanto stiamo... Oh, la madonna... E ogni volta che prendi il cono è cinque secondi in più, capito? Ah, 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 ah! E non è una cosa buona, eh. Si spiegano tante cose. Ho fatto una... Un calo di frame. Non riuscito. A me fa un bel video di questa canzone. Però questa è diversa, eh. Io voglio... Questo è piccolo, ma non c'è l'età per fuori. Lando Norris. Voglio... Ah, o uno... O Hamilton. Bisogna non rassare, se lo cagano in bocchie, rassi. Allora, aiuti. Volevo lì l'altro. No, addio, Ayas! Dilettante, principiante. Cosa può andare a sotto? Allo, sì. Abbassa la frizione e tieni... Questo non lo ho ancora mai capito. Ok. Sì, ho fatto una brutta partenza. C'è Hamilton che è partito peggio di me. Chi è Hamilton? Dottas. Hamilton, so io. E vai, non mi sei staccato la ruota e sono terzo. Ma madonna, mi stanno a bullizzare. Oh! Ok. Ma c'è una I. Manco in Street Fighter c'è questa I nemica. Adesso è più facile, cioè... Ma madonna. C'è tutta una cosa che devi ridurre qua. Ma tu dove sei finito? Ma pure la direttà, ma come fai a scattare la direttà? Ma mi sono venuti addosso, quello con la macchina color diva mi ha sfondato. La macchina color diva qual è? Quella rosa eccellente. Mi hai fatto un pessimo tempo, va bene. Tira, tira la sessione. Comunque ho capito come si fa all'inizio. Bravo. Dove sei? Ho capito chi è. Tu sei Norris. Ma non so come si chiama sto ragazzo, però... Vabbè, però avete rotto il cazzo, se posso dire... Eh... Madonna, ma sono di un'aggressività. Mi sa che ero io. Eh sì, quello sei tu, sicuramente. Oh! Oh! Perez! Perez! Buono, 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 buono. Sono passato avanti. Sono in cinque! Cinque! Posizione cinque! Mi viene da piangere! Oh, ma devo tagliare un po'. Ok, ok, sto correndo, sto correndo. Ma mi ha fatto solo un avvertimento. Ho detto guarda che stai tagliando la curva, non sei ultimo. Va bene, ha detto. No, sei va bene, bravo. Dai, concludila. Tira la cinza. Sì, ma non lo so. Ti va, ti va, ti va. Di puttana! Alonzo! Alonzo! Alonzo da superare! Supera sto cazzo! Figli di puttana! Ma non fanno così veramente? Ehm, no, sì. Portorio! Bravo! Ma scusa, ma quel rosso quanto dura alla fine? Non lo so. Io cerco di andare di previsione. Ma non puoi andarci. Dobbiamo provare la F21. Cos'è la Formula 2? Vanno più piani. Forse è giusto se usiamo la 2. Bravo. Guarda. Virtuosi. VAR. Asiatico. Sicuramente più bravo. Jack Hooker. Jack Hooker. Caputana! Perciò la penalità. Eh, ma perché veramente è difficile capire quando si staccano quelle lucette de merda. che ti fanno qui. Tu sei Ugens eh? Chi? Ugens eh. Ma cazzo ma non è su Eugen? Io sono quarto. Ma io devo recuperare due secondi per quel piccolo taglio che ho fatto Due secondi è tanto E che cazzo La tua andata in merda Quello che sta dietro di te, frena di colpo per favore No Non gira sta macchina in merda Eh non posso manco tagliare Eh va bene A sto punto lo tagliavo di più Ma tu dove stai? Sono settimo Porco duuu Vabbè vado di qua Non ho sbagliato Io devo andare di qua Perché mi suggeriva di andare in box? Flashback Caputtana Sono 21 su 21 Tranquillo se accompagniamo Vaffanculo i box Perché mi sono fidato del gioco che mi metteva la striscetta sui box? Ciao UGIS Ti volevo aspettare almeno non sto da solo Ed ecco corriamo insieme Oggi non ti lascerò tanto Rara sull'Ausola restituisci posizione Te la devo restituire Nooo Per la mia vita Però ti ho dato due secondi di verità Mi hai ucciso Perché tu stavi in mezzo alla strada UGIS Avvertimento da dato Mi ha tritato Mi sono uscito fuori dalla gara Stavo sul cazzo pure la FIA Ma niente non si muove Comunque mi riprendo la virtuosi Perché un carro armato non si rompe Comunque è bellissimo vedere la grande La telecamera grande Guarda quelli che si Dicono nonne Aspetta che arrivano gli altri Vai 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 Avanti 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 Vai vai Però ti sta nevitando Bravo Ti sta nevitando Bravi cazzo No 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 Ti devi mettere un pezzo più stretto Che puttana Sono bravi Tranne quello che lei sega Secondo me Trovato come Possiamo far prima Primo giro Rifacciamo andavanti Secondo ci mettiamo di largo In mezzo alla strada Siamo d'accordo Forse è qua Però è larga qua No è troppo larga Qua però camminano Vedi che è larga Sì così così Bravo bravo Così non possono fare un cazzo Sosta in pista Cazzo Muoviti muoviti Vabbè tanto basta Sosta in pista Basta che ci muoviamo avanti e dietro Squalifica Parcheggio è un punto pericoloso Ma scusa ma te prima non ho fatto niente Ma forse lo ha fatto ma non l'ho notato Io non ho capito perché conta il tempo Bu Bu Ma cazzo Chi cazzo è stato Ma tu devi andare piano No perché all'inizio volevo toglierne un paio di mezzo Capito Ok Spingi l'acceleratore Ok ok Sono in testa Sono in testa Fermati Inghioda Inghioda Merda Sì Sì Così mi piace Così mi piace No sono andato Dove Mi si è perso una gomma No Bella sta pista Sì questa è precisa per farste qua Va riavviata Ok La ciala Ma eri tu davanti Mi si è piantato Mi si è piantato Devo trovare Ho bloccato Williams e Armstrong Signori Oggi non è il giorno in cui vincerete Io sono fuori dalla sessione No Si è morto Fittipaldi No Fittipaldi Non lo sono riuscito a portare con me Mi sto spostando Squalificato dalla testa della sessione Parcheggio Lai non riesce E' bellissimo Eh ragazzi Non si gioca così Ma era Formula 2 scusa Non si gioca così Però è stato molto divertente Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Grazie.